Occorre modificare la legge e prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi e disabili nei parcheggi a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli al loro riservati. Ciò lo può chiedere e lo può fare la Regione Campania nel corso della conferenza Stato-Regioni. È il contenuto di un ordine del giorno approvato nel corso del Consiglio regionale della Campania e proposto dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo. Le normative devono favorire la mobilità dei disabili e agevolare la possibilità di spostarsi con i propri veicoli, sottolinea Cirillo, aiutando anche nel parcheggio dei mezzi. Allo stato attuale, se il disabile non trova posto per sostare la propria vettura negli appositi posteggi gratuiti, aggiunge, è costretto a cercare un parcheggio però a pagamento. Con il nostro ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale, spiega Cirillo, chiediamo alla Giunta di mettere in pratica una modifica al regolamento nel corso della conferenza Stato-Regione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.